In gara al settantesimo festival della canzone italiana di Sanremo con un brano che tratta temi sul bullismo, Billy Blue, scritto dal compianto Giampiero Artegiani per farvi capire l'autore di Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Ai nostri microfoni nella categoria nuove proposte abbiamo Marco Sentieri e noi l'abbiamo intervistato così. Marco Sentieri, ciao buonasera benvenuto. Ciao buonasera a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora stavamo discutendo di quanto poco si dorme a Sanremo ma di quanto in realtà poi si resta attivi sarà forse l'adrenalina di questi giorni che ti tiene sempre sveglio, tutto tra feste, mica feste, prove, mica prove, si rimane svegli nonostante le poche ore di sonno. Sì, hai detto stesso tu, è l'adrenalina che ci tiene svegli e è un tantam continuo però piacevole aggiungerei. Ripercorriamo un attimino il tema di Billy Blue. Sì, Billy Blue tratta una tematica importante e delicata, quella del bullismo, una tematica a cui tengo in particolar modo e quindi per questo cerco di mandare il messaggio quanto più diretto è possibile. Vogliamo cercare, sappiamo che non siamo stati i primi, non saremo gli ultimi, ma con Billy Blue vogliamo cercare di sensibilizzare quante più persone è possibile sotto questo aspetto. Tu come è nata? C'è sempre quel moto, quell'impulso, qualcosa di pancia che ti porta a scrivere una canzone anche forte così. Tu sei papà di famiglia, mi raccontavi, ma come è nata però l'idea? E' nata prendendo spunto da qualche storia che hai ascoltato dai tuoi figli? Come è nata l'idea? Billy Blue non nasce dalla mia penna, nasce dalla penna di Giampiero Artegiani. Tra l'altro ieri ricorreva il primo anniversario della sua scomparsa. Per chi non conoscesse Giampiero Artegiani è l'autore di tantissimi brani che hanno firmato la storia della musica italiana, tra cui una trattante è Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Io ascoltavo, ero con la mia squadra, mi trovavo a Bucharest e stavamo ascoltando un po' di proposte per presentarci a Sanremo. Io non sapevo nemmeno chi fosse l'autore di questo brano. L'ascoltai, visto che ho avuto un'esperienza del genere alle scuole elementari, mi toccò subito a livello sentimentale, mi diede un brivido alla schiena e decisi di farla mia, l'ho cuscita addosso alla mia persona. Anche perché poi dietro al comportarsi da bullo c'è sempre una fragilità interiore di chi si prende gioco degli altri alla fine. Ma sì, sai, nel mio brano io dico, bully non si nasce, ma lo si diventa. In alcuni casi, forse, quando si ha una famiglia alle spalle distratta e disattenta. Ti sto appunto testualmente riportando parole del brano Billy Blue. Non so se quello sia l'unico motivo, ma di sicuro avere una non serenità familiare può aiutare ad avere delle frustrazioni che poi magari in quell'età si tende a scaricarle addosso ad una persona più debole. Allora, adesso parliamo un po' di te. Ti chiedessero chi è Marco Sentieri? Una domanda che mi piace sempre fare oggi. Come ti racconteresti a chi ancora non ti conosce bene? Marco Sentieri è una persona normalissima che tutti i giorni accompagna i figli a scuola, fa il mammo quando mia moglie lavora. Vengo da Casal di Principe, che è un paesino in provincia di Caserta. Ho cominciato a cantare veramente molto, molto presto. Verso i 12 anni ho cominciato ad incidere i primi brani. Poi da 16 anni ho cominciato a formare le prime band e non mi sono più fermato. Oggi ci troviamo qui a Sanremo. Veramente è fantastico. Allora, un progetto per il futuro è un sogno nel cassetto che puoi più o meno svelarci? Guarda, onestamente non sono mai stato una persona ingorda, quindi il mio sogno l'ho già raggiunto. È quello di stare qui. futuro, mi dicevi l'altra domanda? Un progetto per il futuro che ti piacerebbe portare avanti. Sì, di sicuro terminare l'album, che è una cosa fattibile perché già ci stiamo lavorando sodo e puntiamo a finirlo prima dell'estate. Allora, bella la semplicità e l'energia positiva che arriva da Marco Sentieri. Marco, Ciao, ciao! Grazie a tutti